Buongiorno a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, buon lunedì 23 marzo a tutti, buon inizio della settimana a tutti. Come vedete nella foto abbiamo una nuova grafica, una nuova grafica in cui mostriamo sul tablet i social media in cui noi siamo presenti. Siamo presenti in Facebook, siamo presenti in YouTube, siamo presenti con una pagina Instagram e abbiamo il canale Telegram Rubrica Rosso Nera. E in tutti questi social potete trovare tutte le informazioni in tempo reale del mondo Milan. Oggi abbiamo deciso di fare un piccolo video che spiega un po' quello che è al momento il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Come tutti sapete il progetto del Fondo IOT il prossimo anno, l'ennesimo progetto sportivo, consiste in una rivoluzione da parte dell'amministratore delegato Ivan Gazzidis con il pieno sostegno da parte del Fondo IOT nel costruire una squadra di talenti ma di giovanissima età. Quindi l'età massima che si vuole dare è 24-25 anni e quindi alcuni giocatori come Biglia, come Ibrahimovic, come Kier sicuramente saluteranno il Milan. Questo anche per ridurre i costi del monte ingaggio, il Milan attualmente ha il quarto o quinto monte ingaggio della Serie A, se non addirittura il terzo e questo però non è sostenibile visto la classifica che ha il Milan, che ricopre e che riveste il Milan. Il Milan è settimo in classifica e questa spesa folle, si parla più di 100 milioni di euro di ingaggio, non sono giustificati visto il rendimento della squadra e visto il rendimento dei calciatori. Quindi il Milan vuole anche per esigenze del financial fair play abbassare il monte ingaggi, costruire una squadra di giovani talenti, quindi profili più indicati. Il target sono Ben Nasser e Theo Hernandez e costruire una squadra in giro di 2-3 anni competitiva ma che abbia dei costi contenuti all'inizio del progetto. Quindi ecco perché molti giocatori come Kier, come Biglia, come Ibrahimovic, giocatori un pochino più esperti, comunque anche come Musacchio, gente che prende 2,5-3 stagione, comunque a salire da 2,5-3 stagione può e soprattutto rischia di essere tagliato fuori dal nuovo progetto rossonero. E adesso nello specifico vogliamo parlare di Zlatan Ibrahimovic, che ha un contratto fino a giugno, il 30 giugno, di 3,5 stagione, che il prossimo anno sarebbe stato prolungato, l'intenzione era quella di 6-6,5 stagione. Questa cifra viene ritenuta eccessiva dal fondo Iliott, vista l'età del calciatore, che l'anno prossimo andrebbe per i 40 anni. Quindi giocatore che in fondo vuole, non vuole investire una tale somma per un giocatore, seppur forte come Ibrahimovic, ma diciamo così alta per un giocatore della sua età e vuole, preferisce investire risorse economiche per l'acquisto di potenziali nuovi campioni. E quindi anche il progetto sportivo, quindi basato molto probabilmente sull'arrivo di Ralf Reinic, potrebbe in qualche modo seguire le orme del progetto Lipsia, quindi squadra giovane, squadra di talenti, squadra con un monte in gaggi contenuto. Tenete conto che Lipsia, con lo studio di proprietà e soprattutto la politica di giovani con un monte in gaggi pari a 70 milioni di euro, quest'anno è ai quarti di finale di Champions League. Quindi il Milan vuole cercare in qualche modo di creare una squadra forte, competitiva, ma allo stesso tempo sostenibile nel medio-lungo periodo. E quindi l'idea, questa idea qui di costruire una squadra di giovani taglia fuori molti giocatori. Quindi prepariamoci all'ennesima rivoluzione. Diamo per scontato anche l'addio di Bremovic, l'addio di Bremovic anche perché Mino Raiola, secondo noi della relazione di rubrica rossonera, visto che il Milan non rinnoverà neanche il contratto di Giacobo Naventura, sta facendo di tutto per cercare di portare via in qualche modo, scusate il termine, portare via i suoi assistiti. Quindi a rischio anche la permanenza di Gigi Donnarumma, come ben sapete, ma anche quella di Capitan Romagnoli che è seguito appunto dall'agente Mino Raiola. Quindi vedremo quale sarà il futuro, ma il Milan e i Bremovic alla fine della stagione molto probabilmente prenderanno due strade diverse. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace e seguitici sui canali social che vedete nella foto.